Benvenuti ad Amsterdam per l'ISE 2015, siamo nello stand SHARP e sono Antonio Tamarazzo, responsabile SHARP Italia per le soluzioni Visual Solution. Lo stand di quest'anno di SHARP è dedicato in particolare alle applicazioni, al mondo delle applicazioni, mai come quest'anno SHARP si propone come solution provider. Abbiamo quattro aree che identificano le soluzioni presentate da SHARP quest'anno, una dedicata alla collaboration che utilizza i nostri monitor interattivi da 60, 70 e 80 pollici e un'area che va a spiegare come i nostri monitor possono essere utilizzati in ambiti educational e di formazione. Una seconda area molto importante, visto il mercato e l'importanza che ha il mondo retail, è proprio quello per applicazioni legate ai negozi, agli shop, ai mall, con tutta una serie di prodotti. Abbiamo appena introdotto anche una gamma dedicata ad applicazioni Digital Signage Entry Level con una USB player. Una terza area molto importante è quella per eventi speciali. Lì utilizziamo monitor di grandi formati, siamo gli unici ad avere dei monitor con pannelli con tecnologia full LED e abbiamo delle soluzioni da 90 pollici in particolare e soluzioni video da 60 pollici ad elevata luminosità. L'ultima area è quella della zona in cui facciamo vedere le ultime soluzioni in ambito 4K. Abbiamo dei monitor da 70 pollici 4K che arriveranno sul mercato a marzo in anteprima qui ad Amsterdam, con le nuove soluzioni video in risoluzione full HD che sfruttano tutti i pixel per raggiungere anche in questo caso una risoluzione di 4K e monitor da 32 pollici con tecnologia IGZO. Siamo nell'area dedicata alla risoluzione 4K. Qui vediamo due monitor che utilizzano la tecnologia IGZO che è una tecnologia innovativa di Sharp. Abbiamo un modello base e un modello interattivo. Un modello interattivo ha la possibilità di poter scrivere sul pannello utilizzando un pennino in dotazione che riconosce il sistema di scrittura e quindi ha la possibilità di scrivere poggiando il palmo della mano sul monitor. È assolutamente ideale per applicazioni legate al CAD ed ha una risoluzione eccezionale. Altra novità sempre per quanto riguarda la risoluzione 4K è il nuovo 70 pollici di Sharp PNK701 in arrivo sul mercato a marzo prodotto da 70 pollici con una risoluzione eccezionale e con un prezzo decisamente aggressivo entry level per raggiungere subito il mercato del retail. Il monitor ha in dotazione anche un sistema di USB player che permette un'attività di digital signage anche per applicazioni entry level. Siamo nell'area eventi di Sharp, soluzione video wall che vede l'utilizzo di applicativo della IAC che è un nostro partner tedesco che permette l'utilizzo del video wall in modalità interattiva. C'è la possibilità di avere fino a 16 persone ad interagire con questa soluzione. Viene creata una cornice di sistemi infrarossi che va a coprire l'area del monitor ed è una soluzione che si presta a tutta una serie di applicazioni. Questi sono dei pannelli video wall da 60 pollici. Anche qua in questo caso sfruttando tutti i pixel si riesce ad avere una risoluzione più elevata del normale standard full HD. Si può arrivare fino a 4K di risoluzioni in una configurazione ad esempio 3x3. come Sharp siamo gli unici ad avere delle soluzioni video wall da 60 pollici. Siamo nell'area dedicata alla formazione di Sharp. Abbiamo dei monitor interattivi molto versatili che si prestano ad esempio anche ad applicazioni legate al mondo sportivo. In questo caso abbiamo come partner Global Coach che è un applicativo che permette di utilizzare la lavagna come strumento per spiegare schemi ai calciatori. Quindi può essere utilizzato sia nelle scuole calcio nonché per le squadre di Serie A. Vengono memorizzati tutti i movimenti che vengono suggeriti ai calciatori e poi una volta che vengono memorizzati c'è la possibilità di farli rivedere e di spiegarli al meglio. Presentiamo ad Isse 2015 quest'anno quella che è la vera novità di Sharp, il free form display. Si tratta del primo esempio di display che ha una forma che viene definita in considerazione di quella che è la destinazione d'uso, viene customizzata per l'ambito di applicazione specifico in questo caso viene vista nell'ottica del mercato automotive. è un prodotto che utilizza la tecnologia IGZO. Grazie. Grazie a tutti.